Ancora una volta! Ciao ragazzi e ben ritornati nei miei video di Caped! L'ultima volta avevamo battuto lui, il robot, lo scienziato pazzo con robot, magicamente, è stato un miracolo batterlo. Adesso credo di aver battuto tutti i tizi normale che avevo già battuto in facile, quindi forse oggi batteremo uno che non abbiamo mai incontrato. Belli i miei giochi di parole. Ok, allora iniziamo! Che boss batteremo oggi? Non ho la voce quando gioco a Caped, non so perché. Che boss batteremo oggi ragazzi? Quella casa forse sei un boss, però la via è bloccata, come la raggiungiamo? Non so, facciamo tutto il giro, magari così possiamo raggiungere quel boss. Facciamo il giro, salve. Ok, magari da qua... Sì, da qua la possiamo... Forse, aspetta, no. Sì! Ok ragazzi, possiamo combattere questo? Sì, è un boss ragazzi! L'abbiamo azzeccato davvero. Ok, incredibile. Possiamo allora... Chi è? Werner, Werner, Werman in Marine Corps, credo. Ok, allora, che attacchi ci mettiamo? C'è questo che mira in automatico, questo che spara per 4 alla volta, come super tipo il fantasma io lascerei. Magari come questo, questo, io direi, la bomba fumogena. Magari lasceremo anche questi attacchi, non so ragazzi. Vabbè, dai, mettiamo questo, magari non c'è molto, non so ragazzi, sto facendo così a caso. Non lo conosco questo, questo non l'abbiamo battuto finora in facile. Inizierei io direttamente col normale. Ok, andiamo ragazzi. Sarà difficile, tutto è difficile in questo gioco, quindi sì. Ma noi lo combattiamo comunque e speriamo di batterlo. Salve, un topo! Non ci credo, è entrato dentro un'alertica. Cos'è quella cosa? Aiuto! Oh, oh! Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma è impazzito, è impazzito! Troppe robe, troppe robe! Non lo so come ho fatto a scrivarle. Ora ha messo una carta a punta. Prima un cannone ai pomodori. Aiuto! Cos'è? Eh, salve! Salve, l'attacco anche con questo se non le dispiace. Di nuovo il cannone pomodoro! Eh... Ah! Ah! Aiuto! Ok, non è tanto difficile, almeno questa è la prima fase, credo. Ok, si è avvicinato? Oh, oh! Che ho fatto? Si è messo un razzo! Non sto capendo, salve! Che fa? Oh, oh, oh! Oh no! Ho capito, credo! Attaccasi con delle fiamme! Oh no! Ora devo andare giù! Ok, si ho capito, ho capito! Ah! Ah! Ma cos'è? Mi è arrivato in faccia un voloso, l'avete visto, ragazzi? Un tappo, un... E poi c'è quello. Ma aiuto! Non mi dire che ora arrivano tutti! Si arrivano tutti! Che sta succedendo? Un gatto! Mamma mia, si è mangiato il gatto! Salve! Salve! Fantasma! Vi ero scordato completamente! Eh, vai di... Fantasma, fantasma tutto il giorno... Fantasma... Che fa? Che fa? Oh! Stanno cadendo... No ragazzi, non sto capendo niente! Questo livello è pazzo! Il gatto praticamente cerca di attaccarmi con la sua zampa e poi cadono delle cose dal cielo! Eh, non sto capendo più niente! Fantasmi! Eh, ammazziamo i fantasmi! Ok, non ho ammazzato uno! Non hanno tanta vita i fantasmi! Aiuto! Aiuto! Mi ha lanciato qualcosa il fantasma! Schifoso! Morirai! Oh no! Oh no! No, sono morto! Era l'ultima fase! Già ragazzi, non ci credo! Sono stato fortissimo! C'è la prima volta probabilmente che in normale riesco a fare così tanto! Forse! Ma sono stato fortissimo! Dai, questo è abbastanza semplice! Ce la possiamo fare! Ok, magari lo batteremo al secondo tentativo a lui! Mi sembra abbastanza semplice! Mi ha scelto qualcosa! Eh, intanto lui è entrato nella sua specie di carro armato, chiamiamolo così! Anche se non è proprio un carro armato! Già questo danno! Oh, pomodori cadono dal cielo! Muori! Oh, mamma mia! Ci sono andando in faccia! Secondo me prendevo tantissimo danno dentro il tavolo! Mi sono andato così! Che ha fatto? Che cos'è? Oh, oh! Che cos'era? Che cos'era? Mi è arrivato in faccia lo schifo! Cosa sei te? Ok, morto! Prima non l'aveva fatto con l'attacco! Quindi ci sono degli attacchi che non ha fatto prima! Ok, sono casuali! Da sempre! Eh, salve! Eh, io me ne vado! Eh, devo saltare perché sta arrivando un coso! Oh no! Oh no! Da, da tipo... Siamo stati fortissimi a tipo la morte! Però che bello! Uhuh! Mi stava arrivando uno schifoso tappo! Oh no! Ok! Ed è arrivato il gatto! Che poi questo mi sembra che fosse tipo un riferimento a tipo Tom & Jerry! Ma non ne so! Mi assomiglia però! Tipo... Tantissimo! Ma no! I fantasmi! Aio! Cosa mi ha attaccato? Mamma mia! Ragazzi non muore! Ragazzi non muore! Ok no! Mamma mia! Mamma mia! Cosa sto facendo? No dai! No! No! Mi si è bloccato! Mi si è buggato! No vabbè però non vale così per niente! Ragazzi! Ma cosa? Mi si è buggato tutto! Ma l'avevo battuto ormai! Eh dai! Però questo è barare signor gatto! È barare tantissimo! Che mi è proprio crashato il gioco! Ma incredibilmente! Non ci credo ragazzi! Cioè seriamente! No vabbè no! Questo è incredibile! No cioè ragazzi! Io sono stupito! Per una volta che... L'avevo battuto! E poi era pure un boss facile! Il gioco non deve collaborare ovviamente! Ma gioco io di questo me ne ricorderò! E perché non ho più il coso? Mi ha cambiato tutto di nuovo! Vabbè! Questo gioco me ne ricorderò di ciò! Me ne ricorderò! Già mi sono stancato di te perché hai imbarato! Tante volte! Cioè quanto hai imbarato! Ma tantissimo! Ma troppo anni! Mamma mia! Tutti e due li ho presi! Non ci credo! Merito un attaccone! Mi devo portare! Non vale! Non vale! Ok? Mamma mia! Mori! Ok? Sei un fantasma nel frattempo! Mamma mia! Salve! O no? O no? Ok! Perfetto! Oh! Salve! Ma devi morirci! Malissimo! Quando ti batto! Ti batto! O no? O no? Ma perché ci sono andato io? Ma davvero! Ci sono andato io! Cioè stavolta davvero ci sono andato io! Oh! 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 Uno dei topi è morto! E vabbè! L'ho battuto! Ma cos'è? 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 C'è? L'avete visto? Il topo lo comandava! Era un robot il gatto! Non ci credo! Ragazzi non ci credo! Ma per davvero? Per davvero? Non fidatevi dei vostri topi e dei vostri gatti! Cioè vi immaginate tipo compro tipo ieri tipo compri un gatto e poi scopri che in realtà è un gatto robot comandato da un topo! Davvero? Cioè non ci credo! Non riesco a crederci! È stato un colpo di scena incredibile! Sono stupito io dalla scena che ho visto del topo che comandava il gatto a caso! Però ok! Quindi in realtà non era stato mangiato! Cioè praticamente aveva solo... Cioè vabbè! Non commentiamo le cose senza senso! Ok ragazzi? Non facciamolo! Ok! Abbiamo il Werner Werman! Il contratto dell'anima di Wermer Wermer! La la la! Perfetto! Ottimo ragazzi! Decidiamo sempre di più alla fine di questo meraviglioso gioco! Allora! Andiamo quindi là! Che cosa dobbiamo battere? Allora abbiamo battuto a questa del teatro! A questo tizio il robot che non ci fate pensare! Vi prego! Poi l'ape! Ovviamente l'ape! Quella indimenticabile! Il topo! Diciamolo nel frattempo! Poi il pirata! Il piratone! Cos'altro che c'era qua? Niente! Ah la tartaruga! La tartaruga non era un boss! Era un tizio che ci parlava e basta! Però ok! Poi la... Sirena Medusa! E basta! Cioè non c'è nient'altro! Magari qua dove abbiamo incontrato il topo... Non c'è nient'altro ragazzi! Abbiamo finito con l'isola 3! Ok! Possiamo andare alla prossima isola se ce ne sarà una prossima! Andiamo! È sbarrata la strada! No! No! L'ultimo boss di quest'isola! È un treno! Maledizione! Io ho brutti rapporti con i treni! Però... Vabbè! Direi di andarci a questo punto! Sì! E beh sì! Ragazzi! Non potete capire cos'è successo! Praticamente mi trovo qui per un motivo! Cioè non ci sono andato io di mia spontanea volontà! Cioè praticamente io ho chiuso la registrazione per vedere se appunto stesse registrando! E ha registrato il posto! Se no voi non vedreste questo video! Però tipo... A un certo punto mi si è buggato tutto! Il mouse mi si muoveva da solo! Tipo tutto ovunque! Premeva tutti i tasti che aveva! Tipo la rotella! Il tasto sinistro! Il tasto destro! Faceva di tutto! Mi apriva Google! Tutti i giochi che io ho nel mio computer! Mi ha aperto un zacco di pagine a caso! Cioè mi si muoveva tutto a caso! Poi anche roboticamente! A scatti tutto! Non ve l'ho potuto fare vedere perché non riuscivo neanche a... Prenderne il controllo! Perché tipo io lo muovevo ma mi si spostava dall'altra parte del computer! E tipo no! Era incontrollabile! Ma a un certo punto tipo... Cioè non sapevo più che fare! Mi apriva app a caso! App e app e app più volte! Cioè ho dovuto scollegare l'intero mouse! Per poter prendere di nuovo il controllo del mio computer! E quando tipo ho scollegato appunto il mouse! Potevo prendere di nuovo il controllo del computer! Però tipo l'app che io uso per fare i video! Tipo mi si era buggata! Cioè non c'era il video! Non c'era tutto sfocato! Buu ragazzi! Non chiedetemi! Nenomale che c'era un backup del video! No davvero! Non so davvero che è successo dal mio computer! Cioè ragazzi! Ho dovuto riavviare l'intero computer! Ma vabbè! Non è di questo che stavamo parlando! Facciamo il boss del treno allora! Io sono stupito da ciò che è successo prima! Mi esploderà il computer? Molto probabile! Finiremo il video prima di questo brutto fatto! Non credo! Però andiamo avanti! Allora questo si chiama Phantom Express in Railroad! Do what? Però... Io sono stupito! Cambiamoci le armi a sto punto! Non so! Essendo un treno penso che ci sia molto... Che fa... Penso che ci sia molto movimento appunto! Tipo un treno! Maledizione! Se non c'è movimento in quello! In cosa ci deve essere? Ehm... Va bene! Io sono sempre più stupito! Ma me ne farò una ragione! Andiamola! Cos'è? Non so cosa aspettare! Ah! Usa il plasma! Ma che cosa è lei? Cos'è? Cos'è? Ah! Mi lancio gli occhi! Perché lui ha gli occhi nelle mani! Non ce li ha in faccia! Eh! Salve zucca! Ammazzo la zucca! Oh! Mi stavano arrivando gli occhi! Ti ammazzo! Benissimo però! Un'altra zucca! Muori! Altra zucca! Non so che facciano le zucche! Però qualcosa la faranno! Tipo mi lanceranno qualcuno in testa! Morite! Zucche! Ma perché è tipo Halloween questo livello? Che cosa ha fatto? Aiuto! Aiuto! Muori! 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 No! Ok! Ok! Abbiamo ammazzato il fantasma! No! Via! Che facciamo qua? Ma perché è rosa? Ah! Posso muovere la roba io! Eh! Salve! Che cos'è lei? Salve! L'attacco! Che cos'è? Uh! Dobbiamo spostarci probabilmente tipo dove... Eh sì! Aspetta così tipo! Ecco! Aspetta c'è un altro fantasma! Ma questo non... Ah io! Perché è saltato? Aiuto! Aiuto! No! 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 Mi stava arrivando che faccia quello! Oh no! Oh no! Non ce la faccio! Oh! Si possono sfidare! Imprendibilmente! Perfetto! Eh! Per oggi! No vabbè! Ultimo! Un ultimo tentativo ragazzi! Solo uno! Ok! Quindi praticamente quelle zucche ci muovono la cosa! Quindi le dobbiamo ammazzare subito! Eh! Salve lei che ha gli occhi nelle mani e non so perché! Eh! Eh! Muore! Ok! No! No! Sono stupito! Stupito! Mi è arrivato un occhio! Mi è arrivato un occhio! Mi è arrivato un occhio! Perché non so con cosa attaccare se con quello! Quindi li faccio entrambi! No! 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 Oh! Attenzione Attenzione Dimmi che non lo attacca qui Date No Oh no Perché lo attacca? Perché ci sono andate? Oh no, oh no Eh, mi salve No No Maledizione Ok Quando muori, ok, è morto Perfetto, l'ho detto io Che ha fatto? Maledizione Morite tutte Salve chi è ora Aiuto, ci sono dei gemelli Chi sono? Che fa l'altro? Ma che cos'è questo attacco? E perché ci sono dei fantasmini? Aiuto I fantasmini non sono carini Ok, ora dall'altro lato Ok, uno è morto Dobbiamo ammazzare anche l'altro Seriamente? No Ok Ok, rimaniamo qua a sto punto No ragazzi No Oh no 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 Ok Muori Dimmi che è l'ultima fase questa Dimmi che è l'ultima fase Ok, è morto anche lui E ora? No, un'altra fase Dimmi che è l'ultima Aiuto il treno E che cos'è? Il treno si è arrabbiato, credo Si è arrabbiato, si è arrabbiato Che fa? Non lo posso attaccare, ragazzi Non gli faccio... La coda, la coda Uh, la coda, mi posso fare danno ora Non sto capendo niente, schiva le cose Oh, perché mi è arrivato in faccia un coso? Però io quasi alla fine, ragazzi Incredibile Vabbè, a questo punto allora l'ultimo tentativo, ragazzi C'ero alla fine Cioè, ragazzi, ero alla fine Allora, questo è l'ultimo tentativo, però Anche se muoio alla prima fase, ragazzi L'ultimo tentativo Perché, cioè, devo concludere il video E perché sto morendo letto Ce l'ho tutta per quel bacio che mi è successo al computer Troppe robe da sparare Soprattutto lei Lo dico Oh, 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 troppi occhi Troppi occhi E anche troppe zucche Troppe zucche, ma almeno di meno Mamma mia Mamma mia Ok E quando muore È perché devo stare proprio qua sul coso Oh no Mamma mia Aiuto Schifoso Ok, è morto Ragazzi, è moruto E io ho preso danno anche Però lui è moruto Salve Che fa? Come va la vita? Mamma mia Ok, se stiamo qua in mezzo ad origanti Non ci fa danno, ragazzi Ricordiamolo Ok È moruto Ok Aspetto di dirlo Ok Andiamo più avanti Perfetto Eh, salve Sia lui vero No Cambia ogni volta pure Ok Oh Ci è andato vicino Oh Mori, muori Oh no Nessuno Ma non ho capito davvero dove era il personaggio in quel momento Comunque Per oggi direi che possiamo concludere qui il video Se non siete iscritti Iscrivetevi Da Fabrics Game È tutto Ciao Ciao Guarda che tempismo perfetto Ora ho smesso di caricare Perfetto E ho rovinato tutto Facendo l'altro stupido alla fine Però questi sono dettagli Che un'altra Grazie a tutti.